Buongiorno a tutti. Come vi ricordate, io vi avevo detto la volta scorsa che intendevo parlare del GAL e vi avevo appena accennato chi erano quelli del GAL, i soci e tutto il resto. Adesso vi leggo per esempio questa delibera del GAL. Allora, articolo 1, concessione dell'aiuto al dottore Cusumano Vincenzo, nato ad Alcamo, residente ad Alcamo, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Strade del Vino Alcamo-Doc. Viene concesso un contributo di 83.121,85 corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammessibile per come sotto il riportato esenza della misura 313 azione B per la promozione di itinerai rurale del Golfo di Castellammare da realizzare nel territorio di competenza del GAL. Quindi la cifra era di 83.121, che poi il contributo pubblico richiesto era di 98.000, contributo pubblico concesso 83.000, più l'IVA, eccetera, eccetera. Perché vi dico questo? Perché poi trovo ancora un'altra delibera, perché cosa c'era scritto qua in questa? Il termine ultimo di esecuzione delle attività era fissato in 12 mesi dalla data del presente Stato di concessione. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il GAL potrà procedere all'arrevoca del contributo. Però questa arrevoca non c'è stata, nonostante sia trascorso un bel po' di tempo. C'è stata invece una proroga straordinaria ed eccezionale, sempre per questo progetto dato all'Associazione Strade del Vino, d'Alcamo Doc. E allora anche qui, quindi in questa proroga straordinaria ed eccezionale, si dice che cosa? Che si concede un'ulteriore proroga straordinaria ed eccezionale di giorno 20 ed assegna come termine ultimo per il completamento delle opere il giorno 29 di maggio 2015. Io sinceramente non lo so se queste opere di cui si parla sono state già fatte oppure no. Ricordo soltanto che poi vi leggerò il regolamento dove c'è scritto tutto quello che deve fare la persona che ottiene questo contributo, l'associazione che ottiene questo contributo, deve fare addirittura manifesti, cioè la cittadinanza deve sapere perché, diciamo, che cosa si è fatto con questi soldi e tutto il resto. Poi vi leggo invece un'altra delibera, sempre del Gall, delibera del Gall, questa volta la delibera del Gall è riferita, vediamo a chi è riferita, è riferita a, scusate, lo vediamo se lo trovo qua, buoni fa, ecco, comune di Alca, comune di Alca, ecco qua. Allora, questa è una delibera in cui il beneficiario con la sottoscrizione alla domanda si impegna a rispettare quanto previsto la disposizione, eccetera, eccetera. La concessione viene data al signor Gervasi Giovanni Battista, nato ad Alcamo, residente ad Alcamo, in qualità di rappresentante legale dell'associazione Laurus Cultura Ambiente, codice, eccetera, eccetera, come codice identificativo, e vengono dati 54.429 euro. E qui c'è il contributo, diciamo, che viene dato, e il termine era 12 mesi dalla data del presente atto di concessione. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il Gall potrà procedere alla revoca. Però io che cosa ho qua? Ho un'altra delibera, proroga. E allora sembra una proroga all'associazione Laurus di Alcamo e questa proroga viene data. E quindi si dice che si proroga di 100 giorni per il completamento delle attività previste su bordinamento all'impegno che i vincoli di destinazione e il periodo di non inalienabilità di cui all'articolo 72 si intendono posticipare per un periodo corrispondente a quello delle proroghe concesse. In considerazione di quanto sopra, il termine ultimo per il completamento delle opere è per il giorno 10 novembre 2014. Mi pare che il 10 novembre 2014 sia passato. Adesso non so se è stato fatto quello che si doveva fare oppure ci sarà un'altra proroga. Perché è la cosa che mi fa sorridere. Però naturalmente sarà nella legge che si diceva che proroghe non se ne possono dare, addirittura sono proroghe che si danno in via eccezionale. Ci sono prima proroga, seconda proroga, proroga eccezionale, proroga eccezionale, straordinale. Continueremo noi a parlare sempre del GAL e per adesso abbiamo trasmesso, i nostri tre minuti sono trascorsi, quindi vi ringrazio e ci risenteremo la prossima volta.